Nell'antica Grecia esisteva la Gerosia, cioè il Consiglio degli Anziani. Si trattava di un'assemblea che aveva il potere di prendere decisioni importanti con il re. Ero formato da 28 membri, potevano decidere su questioni di politica interna o questioni di politica estera. Gli anziani erano considerati saggi, portatori di storie, tradizioni e potevano aiutare in caso di battaglie o guerra.